Moltissime telefonate che, hai capito? Faccio un abbraccio, sì. Un abbraccio. Proprio. La porca in vera. Mi sento buono. Qui l'abbraccio, te non me lo dai? Perché hai le tette grosse? Ma dove? Che bello. Allora questa è la vera soddisfazione. Ma è che mi ha detto? Sì, è vero. Allora, io rappresento tutti quei cani sciolti che hanno voglia di fare qualche cosa e non si fidano delle associazioni. Sai quelli con tutti quei vestiti belli puliti? No, no, a me piace tipo questi ragazzi qua. Venite qua, bastardi. Ecco, vedi? Ragazzi che hanno 14, 15 anni, 16 anni. Te quanti anni hai? 25. Hai fatto i chilometri doppi. Vieni qua, bella. Fammi vedere. Allora, cosa facciamo? Veniamo qua a donare ai ragazzi che lavorano quello di cui possono necessitare, capito? Per me, per me, tutte queste istituzioni, un'emergenza, e io ne ho un'esperienza di più di 30 anni. Ho cominciato nella guerra in Jugoslavia. Come cane sciolto, perché non mi fido di nessuno. Perché c'è gente che si arricchisce con queste cose qui. Hai capito? E allora per loro è come avere una tavola imbandita. Dove chi arriva? Prende, ti vede, ah guarda, puoi scaricare qui. Così dopo la dividono loro a chi gli pare. Adesso dobbiamo andare a trovare delle famiglie che hanno i garage tutti pieni d'acqua. Sono andati a fare il sopra luogo, andiamo giù e andiamo con le motopompe, la motocariola, andiamo a svuotare. Poi abbiamo tutti i beni di prima necessità. Abbiamo di tutto, dai panni per pulire, gli stivali, gli stivali. Abbiamo anche un po' di cherosene qui. Il San Giovese l'abbiamo finito. C'è il vino bianco. C'è la scritta, il sito da davanti è meglio. Il San Giovese l'abbiamo finito.